La vicenda dei precari assume sempre più connotazioni politiche di uno scollamento fra l'Aggiunta che sembrerebbe contrario e il Consiglio che invece sarebbe favorevole. A questo punto il Consiglio che cosa dovrebbe fare secondo lei? I consiglieri non possono più trincerarsi dietro pareri dei dirigenti e neanche dietro un'autonomia dell'amministrazione comunale e dell'Aggiunta. Sappiamo tutti che in democrazia funziona in una maniera ben diversa, cioè che sono dei consiglieri comunali in particolar modo di maggioranza a reggere gli assessori in Giunta, a reggere e a legittimare la loro azione politica e amministrativa. Quindi nel caso in cui l'amministrazione comunale e quindi l'Aggiunta non è pedisseco e coerente rispetto all'indicazione del Consiglio, non c'è che un modo e cioè che i rispettivi consiglieri, i rispettivi gruppi politici di maggioranza in Consiglio tolgano la fiducia agli assessori che evidentemente non sono lineari e coerenti rispetto alle azioni politiche, alle posizioni politiche della maggioranza. Dopodiché abbiamo potuto verificare come probabilmente anche dentro l'Aggiunta non ci siano le idee chiare e non ci sia un univoca voce, ma stando alle parole del Vice Sindaco di Rifoggio della conferenza stampa in cui lui ha detto di rappresentare tutta l'Aggiunta, non ci rimane che chiedere ai singoli assessori di differenziare la loro posizione, altrimenti noi abbiamo, diamo per buona, l'unica posizione emersa dall'Aggiunta, e cioè la contrarietà alla proroga dei precari. Guerra di pareri, c'è il parere contrario della dottoressa Coluzzi, però c'è quello positivo dell'Avvocato De Nardis, che all'epoca era avvocato ma ora è segretario generale, quindi a questo punto potrebbe togliere l'Aggiunta dal pantano? C'è un modo molto semplice, l'Aggiunta deve adottare il parere tra l'altro gerarchicamente superiore del segretario generale dell'Aggiunta e quindi l'Avvocato De Nardis oggi, farlo proprio ed essere per disegui rispetto a un parere lineare in evvocabile procedendo poi alla stipula dei nuovi contratti. Grazie. 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 Grazie.